Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di domotica. Domotica nella casa, nello specifico nei ceramenti. Noi alla Bisacchi, ma tante aziende in generale, danno la possibilità di aprire gli infissi elettricamente, quindi motorizzati, che sia una vetrata scorrevole, che sia un'antabattente vasista smotorizzata, oppure anche delle semplicità pari alle motorizzate, delle ante a scuri, ma anche le zanzarie, abbiamo fatto tanti lavori anche con le zanzarie motorizzate, le porte con l'apertura biometrica, con le chiusure che si riarmano e tutte queste cose tu le puoi incorporare all'interno della domotica della casa e ti consente con un'applicazione, con un telefono, con uno schermo attaccato alla parete, oppure anche con un sistema vocale come Alexia o Google Home, di comandare la tua casa. Tu potresti dire, Alexia, aprimi la finestra e lei ti apre la finestra. Alexia, sono arrivato a casa e lei sa che quando sei arrivato a casa, magari ti deve accendere la radio, ti deve accendere le luci, alza le tapparelle a una certa posizione e manda giù le zanzarie, cioè puoi fare veramente tante cose con la domotica, che è una cosa che ti rende la vita più facile e più tecnologica. E' molto amata appunto da chi gli piace spattacchiare, come diciamo qui in Romagna, con i telefonini, con tutti questi sistemi innovativi. Io quando ho fatto casa mia, era nel lontano 2007, quando avevo montato i sorramenti, ancora c'erano delle domotiche che facevano ridere. Mi dicevano praticamente che devo spostare dei ponticelli per creare degli scenari nuovi. Io ho detto, no, per me la domotica già allora è, voglio un tablet, gli voglio dire, fai questo e la casa deve fare quello. Cioè, è quello che oggi si inizia ad ottenere con dei costi, diciamo, fattibili, perché allora era veramente improponibile. Quindi oggi è possibile fare la domotica applicata agli infissi, come? Utilizzando dei serramenti motorizzati, con delle aperture motorizzate, che sono molto indicate, magari certe finestre a vagi, dei bagni dove hai bisogno di areggiare, di uscire di casa e la finestra si chiude da sola, o delle vetrate apribili molto grandi, o banalmente con le tapparelle che ormai il motore lì è diventato di uso comune. Quindi potresti dire, Alexia, comprami su Amazon il libro di William Bisacchi, e Alexia ti prende il libro e poi chiudimi le finestre, e letti chiudi le finestre. Giusto per scherzare. Ciao e al prossimo video. Grazie a tutti.